Ecco un esame ematochimico davvero fondamentale in quest'epoca per la valutazione del rischio cardiovascolare. Le lipoproteine piccole e dense in realtà, le small dense lipoproteine, cioè lipoproteine a bassa densità e di piccole dimensioni, sono una sottocategoria delle lipoproteine LDL che sono comunemente note per il loro ruolo nel trasporto appunto del colesterolo nel corpo. Le small dense lipoproteine sono particolarmente pericolose perché hanno una densità maggiore rispetto alle tradizionali LDL, quelle normali, e sono più piccole e più decisamente infiltranti. Questa caratteristica appunto le rendono più aterogeniche, ovvero più capaci di contribuire alla formazione di placche nelle arterie, un processo noto appunto come aterosclerosi. Uno degli aspetti particolari delle small density lipoproteine è che possono attraversare più facilmente la barriera delle pareti arteriose e ossidarsi o reagire con altre sostanze. Una volta ossidate queste particelle diventano ancora più problematiche per la salute delle arterie perché hanno la capacità di reagire e di andare a formare quella che è la placca ateromasica. L'aumento nel sangue di small density lipoproteine può essere causato da numerosi fattori. Sicuramente esiste una componente genetica importante ma lo stile di vita è assolutamente fondamentale nella logica di questo aumento di sintesi di lipoproteine. Non è stata individuata una causa precisa per cui le LDL, small density lipoproteine, possono aumentare ma è stato correlato sicuramente a uno stile di vita abberrante, anomalo, distorto che produce una sintesi endogena naturale di queste lipoproteine piccole e dense che appunto hanno questa forte capacità aterogenica. Una dieta povera di fibre ad esempio oppure lo stile di vita costituito da sedentarietà, fumo di sigaretta, tutte caratteristiche ormai stranote che si manifestano attraverso delle espressioni biochimiche ma che hanno come fenomeno terminale, diciamo così, come epifenomeno, la formazione di placche ateromasiche. Tutto confluisce nella realizzazione delle placche purtroppo e appunto nella formazione della aterosclerosi. Le small density lipoproteine sono attualmente misurabili attraverso un esame del sangue molto semplice. Ovviamente non tutti i laboratori conoscono questo esame, spesso o meglio lo conoscono ma non lo attuano perché non viene mai prescritto in sostanza, ma in realtà allo stato attuale valutare la quantità di small density lipoproteine costituisce un valore aggiunto alla diagnosi e alla prognosi anche delle malattie cardiovascolari. Non esiste una cura specifica per abbassare queste lipoproteine, cioè non c'è un integratore o un farmaco che sicuramente le abbassi anche se come sempre le statine abbassano tutto per in cui evidentemente hanno un ruolo o possono avere un ruolo anche sulle small density lipoproteine, ma sta di fatto che la genesi stessa, cioè la sintesi endogena di queste lipoproteine, consiglia, fa individuare quale metodo, cioè praticamente lo stile di vita alterato che può generare queste lipoproteine e se corretto può avere un beneficio sulla numerosità appunto delle lipoproteine small density lipoproteine. Un ruolo fondamentale come dico sempre è la dieta, l'assenza di fibre l'ho detto poco fa, l'aumento di acidi grassi saturi, la quantità di nutrienti che spesso producono un danno abbastanza visibile anche talora, intendo il sovrappeso, costituisce sicuramente un elemento fondamentale nella maggiore quantità di queste small density lipoproteine. Ripeto, l'esame ematochimico è possibile farlo, nel mio ambulatorio lo prescrivo, ma non tutti i laboratori hanno l'attrezzatura, il cosiddetto kit Elisa, per poter fare questo esame che secondo me andrebbe senz'altro fatto.